Pronto, ciao Enzo. Ciao, ciao Carlo. Sono Mario, chiamo D'Atrani. Ciao Mario, ciao. Enzo, senti, volevo chiederti qual è la situazione per quanto riguarda Mastronunzio e Carrossieri. Guarda, io sono convinto di una cosa, che se il Bari riesce a vendere oggi Andrea Masiello, accadranno una serie di cose. Perché il Bari in questo momento non può spendere perché deve far cassa ad Andrea Masiello. Nel momento in cui fa cassa ad Andrea Masiello, vedrai che annunciano Borghese, annunciano Carrossieri e chissà. Carrossieri sono già annunciati. Sì, diciamo in linea di massima, però non è ancora definitivo. Magari arriva anche Mastronunzio. E forse anche Mastronunzio, speriamo, perché è un attaccante di quelli che in serie B fanno sempre molto comodo. Qui Useclep, io lo chiamo il marziano perché sembra che venga da chissà quale... Useclep dovrebbe andare al Celtic forse. Forse, però vediamo, qui intanto si salutano Rivas e Salvatore Masiello. A me non dispiacerebbe Useclep in questa squadra. L'anno scorso ho fatto bene, mi è piaciuto. Sì, sì. È una componente anche bella punta per il Mario. Sì, sì. Allora, parentesi dedicata al bowling, perché si è vestito di tricolore il bowling juniore spugliese. Infatti alle finali nazionali di Roma le medaglie d'oro nella specialità di singolo sono andate a Francesco Napoleone della SD Barium per la categoria 9-11 anni, che ha bissato il titolo già conquistato nella stagione 2010, e questa ragazza che si chiama Maria Grazia Perrelli della SD Dolmen di Corato per la fascia tra gli 11 e i 14 anni. Due affermazioni che testimoniano l'ottimo stato di salute del bowling pugliesi. Io credo che il bowling sia in assoluto, insieme al calcio e qualche altro sport, tra gli sport più praticati, nel senso che almeno una volta ne abbiamo giocato a bowling nella vita. Io ad esempio non ho mai fatto canoa, ad esempio, non ho mai fatto tiro con l'arco, ma a bowling almeno una volta ricordo di aver giocato, insomma, credo un po' tutti una volta l'abbiamo fatto. Especialmente ragazzi, giovani. Allora, torniamo a noi, qualche minuto ancora a disposizione. Non so se abbiamo possibilità di ospitare un'ultima telefonata allo 085019998. Ricordo ancora una volta, il Bari alle 5 oggi si allena. Non è lecito sapere da Torrente se usciranno all'antistadio oppure saranno in palestra per l'allenamento di oggi, però a mio avviso usciranno all'antistadio, domani doppia seduta all'allenamento e poi ci sarà la presentazione di tutti i nuovi arrivati, perché a quelli già... Ecco qua il portiere della Repubblica cieca, diciamo, e questo invece è Masi, l'altro è Galano. A tutti quelli già arrivati qui si aggiungeranno probabilmente fra domani e dopo domani altri giocatori, forse già domani, quindi potrebbe esserci una presentazione più ampia e più completa, compreso Scavone che è ufficialmente da pochi minuti un giocatore del Bari, Nicolino Bellomo, davvero per lui, per Grandolfo, non si può che fare un tifo speciale. Il nostro giorno l'ho visto nella città vecchia, Bellomo. Infatti, infatti. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, saluto gli amici. Ciao, ciao, buonasera. Mi sono emozionato a vederti con Gazzi, poi tutto il resto dei giocatori e i nuovi giocatori giovani che sono veramente un bello vederli. Ma bisogna vedere come giocano, come li fa giocare. Poi volevo dire, io sono un vecchio tifoso, oltre 65 anni fa, già seguivo il Bari, Cotagliola. Sì. Volevo dire, per quanto riguarda la società, per quanto riguarda Gazzi, Eusecle, questi potrebbero essere la forza del Bari. Quindi gli sta cedendo il Bari. Non so, cosa può venire fuori? Io so dell'idea che se il Bari se ne ha la possibilità, insomma, trattenga Gazzi. Io vedo Gazzi con la fascia del capitano del Bari e sarei conto. Mi sarei garantito in campo, da tutto lo sfascio che è successo, avere Gazzi in campo sarebbe un motivo di consolazione. Il capitano del Bari è Alessandro Gazzi, un ragazzo per bene, un ragazzo che è dall'aria. Insomma, il Bari operaio, credo che nessuno più di Gazzi lo possa rappresentare. Se dobbiamo parlare di un Bari operaio. Quindi, allora, il mio appello è questo. Se possiamo mantenere Gazzi, vendiamo purtroppo Andrea Masero, che è un altro giocatore che a me piaceva molto, vendiamo anche Eusecle, penultime ipotesi, non fosse altro perché comunque è arrivato cinque mesi fa, ma se proprio un giocatore lo devo tenere a Bari, io mi tengo Gazzi. Non so se voi siete da perdere la struttura, insomma, la squadra. No, è praticamente il perno del centrocampo. Gazzi per me è imprescindibile. Imprescindibile. Va bene, va bene. Noi siamo addirittura ad arrivo per l'appuntamento di uno col Biancarosso di Sport. Quando inizia il campionato del Carbonara? La terza categoria dovrebbe iniziare a seconda di ottobre, quindi abbiamo ancora tempo. Quindi a settembre inizierea poi la preparazione. È perdonabile che tu non sappia quando inizia il campionato, perché non sappia quando inizia il campionato, quando inizia il calendario, non si sa niente. Noi avremmo un sogno del Carbonara, fare un amichevole con il Bari. Perché no? Magari giriamo la richiesta a Enzo Foglianese. Ah, Fabio Foglianese, scusami Fabio. Va bene. Giocarla e vincerla ovviamente, l'amichevole. Va bene, dai. Non è scogliamo adesso. Ora siamo allargando. Va bene. Stop, grazie. C'è qualcuno in linea, no? Niente, dobbiamo salutare. Grazie. Se ci sono altre notizie nel corso della giornata, vi aggiorneremo prima dell'edizione della replica di Bianca e Rossa di B Sport. Grazie ai miei ospiti, Giuseppe Mangruna e Domeno Lascina. Grazie a voi. A domani con il Bianca e Rossa di B Sport. Ciao. Buonasera. Ciao. 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 Ciao.